Appartamento in borgo, due camere da letto, studio che può essere tranquillamente utilizzato come terza camera, sala, cucina abitabile, una bellissima luce, libro su tre lati, piano primo ed ultimo. Ciao, sono Alan di Garoni Immobiliare e oggi ti accompagno a vedere quest'appartamento in vendita. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sono sicuro che questa visita digitale ti ha incuriosito, perciò contattaci e ti accompagneremo molto volentieri. Ci vediamo in visita.